Dopo il profumo dei fiori in Iraq, Jessica Gigi torna con i diamanti, sono i migliori amici delle donne. Alle soglie dei 30 anni, Michelle Benhamou può considerarsi una donna realizzata. Ha un lavoro stimolante, un bel appartamento a Manhattan e un fidanzato sexy con cui dividerlo. Certo, in Marocco, terra d'origine della sua famiglia, sarebbe considerata una vecchia zitella, ma per fortuna lei vive nella modernissima New York. All'improvviso però, Michelle avverte una sorta di inquietudine, un vuoto ben localizzato sull'anulare della sua mano sinistra, dove una pietra preziosa, magari la pietra preziosa per eccellenza, non sfigurerebbe affatto. Ma quando il fidanzato davanti alla prospettiva del grande passo fugge a gambrevate, a Michelle non resta che ricominciare tutto da capo. Scoprirà così che il grande amore è simile al tanto agognato diamante. Ha bisogno di tempo per trasformarsi in qualcosa di veramente prezioso.